Con il Porto Sant'Elpidio Guido Di Fabio ad otto un massiccio turnover al comunale scendono in campo dal primo minuto solo i quattro undicesimi della formazione che ha impattato a Tolentino Lorenzo Sbarbati, il punto di riferimento centrale nel tridente del Castelnuovo. Proprio sui suoi piedi la prima chance nero-verde anticipo su Aliffi e conclusione neutralizzata da Cavalieri ma non sarà un primo tempo a senso unico a dispetto dei 24 punti di distanza Orazzi impegna Olivieri che sostituisce Natale in Porta. Non ci sono sbocchi nella munitissima retroguardia della squadra di Claudio Tridici allora Castelnuovo che prova a sbloccarla dalla distanza con Mattia Foglia quindi Manari si scambia di posizione con Di Ruocco Sovente nel reporto offensivo senza però produrre effetti sostanziali tanto che è sempre sbarbati il pericolo numero uno con Gusteri a smorzagli la conclusione in calcio d'angolo qualche istante prima del duplice fischio. Nella ripresa il piazzato d'opera di Alessio Palladini sul quale si oppone Olivieri in una fase di gioco in cui prende coraggio la formazione del Pidiense ancora il portiere del Castelnuovo che si salva su Spagna quindi Morganti a salvare su Raffaeli. Ma all'ingresso di Lorenzo Emili e di De Gidio scuote il Castelnuovo può partire l'assalto nella metà campo avversaria e proprio Emili a cercare con insistenza la via del gol Cavalieri. Sbarra la strada anche a De Gidio quindi sul corner di croce la testa di Emili con il pallone che attraversa l'area piccola una pressione sempre più evidente corroborata anche dall'espulsione diretta per Zira a causa di un intervento sconsiderato su Bregasi. Rosso e possibilità su punizione per l'1-0 ma non c'è lo specialista Loviso squalificato al pari di Terrenzio e allora De Gidio con la soluzione sul pallo del portiere e ormai un tiro al bersaglio. De Gidio che spreca tutto da ottima posizione Bregasi per De Gidio sempre Cavalieri a chiudere e Lorenzo Emili in seconda battuta ma risultato inchiodato piallato sullo 0-0 nonostante un Castelnuovo tutto proteso in avanti con il cronometro però. Pessimo alleato dei Neroverdi e con un Porto Sant'Elpidio che si difende in inferiorità numerica fino all'ultimo respiro. quando ancora Lorenzo Sbarbati prova a consegnare i tre punti a guido Di Fabio ottimo il suo movimento e destro improvviso ma con il palo che nega la gioia del gol Alex attaccante del Monte Giorgio un buon Porto Sant'Elpidio ferma il Castelnuovo al comunale. Termina 0-0. Di Fabio meglio nella ripresa decisamente rispetto a un primo tempo abbastanza opaco anche per merito del Porto Sant'Elpidio lei comunque l'aveva detto alla vigilia che era questa una partita difficilissima. volevo non aver ragione perché l'ho detto a voi l'ho detto ai miei ragazzi l'ho detto a tutti che oggi sarebbe stata la partita più difficile della stagione perché giocare contro una squadra che si chiude. Io avevo visto le partite del Porto Sant'Elpidio le ultime che aveva fatte sia a Campobasso sia a Rieti tutti avevamo avuto difficoltà nel trovare. Forse noi abbiamo avuto più occasioni di loro però per vincere queste partite ci vuole ben altro ci vuole tanta cattiveria agonistica tanta voglia. Ho chiesto ai ragazzi che hanno detto che dovevamo metterci del nostro per vincere questa partita quel nostro che ci abbiamo messo non è bastato. Sì a sfortuna ci credo poco perché io penso che la sfortuna la fortuna una se la deve creare da soli quindi noi io in primis perché mi assumo tutte le responsabilità di questa vittoria mancata perché uno fa magari delle scelte in previsione di tante cose il fatto che domenica abbiamo giocato in un campo pesante, stanchezza ho a disposizione un gruppo che si allena magnificamente tutta la settimana e giustamente dai possibilità a tutti di giocare e di mettersi in evidenza. Questi sono ragazzi straordinari che stanno crescendo domenica e per domenica e ci stanno spingendo a lavorare su questo progetto.